Avanti! Tutti vincono un premio! Oh, è semplicissimo! Abbatti i bicchieri e vinci un premio! Oh, per favore! Indietro ci pensa la mamma! Wow, che lancio! Bel colpo! Ecco il tuo premio! Voglio quel peluche di Katna! Meglio stare indietro! Coglio! Oh, li ha buttati giù tutti in un colpo solo! Prego, ecco a te! Possiamo avere il tuo autografo! Ogni volta è così... Guarda, forse lei va bene! Mi servono dei denti! Ops, errore mio! E forse sei tu? Oh no! Non è lui! Non interferire! Continuiamo a cercare! Proprio quello di cui avevamo bisogno! Perfetto! Perfetto! Penso che una caramella funzionerà! O forse un osso! Sono loro! Sicuramente non funzionerà! Sono la vostra più grande fan! Che carina! Benvenuta in famiglia! E ora andiamo! Ragazzi, non parlate con gli sconosciuti per strada! Ricordate il segno! Chi si crede di essere? Dov'è la piccola? A cosa giocheremo? A giocare! A giocare! Non siamo qui per giocare I denti non li voglia rubar Basta un sorriso per farti spaventar La tenaglia è pronta per strappar La bocca apri e fidati Veri i denti e vai così Se non vuoi non ti preoccupar È ora di dormire e non dimenticar Chiudi gli occhi e i sogni d'oro Dacci i denti, mio tesoro! Hai sentito cosa ho detto? Cosa? Tutti i miei sforzi sono stati sprecati Ho una palla! Che peste! È mia! Fermo! Mettiti al lavoro! Hai dimenticato perché abbiamo bisogno di lei? Osserviamo i suoi denti Poi li prendiamo Va bene Affare fatto! Ehm, dov'è? Quanti giocattoli! Wow! Sembra che sia ora Mi farà un selfie Ciao! È ora di mangiare Oh, tesoro è molto salutare Soprattutto per i tuoi denti È disgustoso! Cosa fai? Un'idea! Dog Day, aiutami! Eccomi! Oh, cavolo! I suoi denti sono... Oh, ma... Il nostro piano sta funzionando Dov'è? Cara, l'ho trovata! Sei fuori di testa Non è nostra figlia! Cosa pensi di fare? Questa è mia figlia! Oh, oh! Aspetta! Quella è una telecamera! Dobbiamo controllare il filmato! Non adesso, Charloire! Oh, quella è la guardia di sicurezza! E ci sono i monitor delle telecamere! Siamo vicini a risolvere il mistero! Guardiamo! Guarda! Eccola! Aspetta, ingrandisci! Di più! Voglio quelle scarpe! Chanoire, abbiamo cose più importanti da fare! Ragazzi, dove è andata nostra figlia? Che bello! Puoi andare? C'è cascata! È così bello qui! Certo, piccolina, certo! Avrò la stanza più bella! Oh, che carina! E smettila! Meglio chiudere la gabbia! Ora non scapperà! Andiamo! La chiave! Oh, dove l'ho messa? Oh, eccola qui! Finalmente! Ora possiamo rilassarci! Catnap guarda! Un cartello! Che cos'è? Come è uscita? Per favore, sediti! Evviva! Giochiamo! Quanto è carina, vero? Quando cominciamo? Fatti da parte! Oh, quasi dimenticavo! Ora sono pronta! Dov'è andata? Prendi questo! Uno a zero! Prendi questo! Oh! È ora di finirla con questa ragazzina! Mi sta facendo impazzire! Dov'è? Ehi, sono qui! Guardate! Cosa? Oh, no! È solo carta! Volete un cioccolatino? Sembra che abbia perso un dente! Ah, vabbè! Il mio tesoro! Ehi, cos'è? Strano! Lo terrò da parte! Non si sa mai! Oh, no! Tesoro, riprenditi! Ho i cartoni animati! Oh, a cosa giochiamo? Facciamo un prototipo! Grazie! Ecco, piccolina, divertiti! Grazie! Ne vuoi un po'? Certo! Grazie mille! Mmm, deliziosi! Adesso ci siamo! Ma che diavolo! Oh, oh! Svegliati! Non dirmi che hai mangiato tutti i popcorn! Dobbiamo ottenerci al piano! Balla alla bambina! Fallo tu! Dov'è la mia bambola? Spero che funzioni! Ehi, attenta! Perché sono così sfortunato? Oh, per un attimo ho pensato che fosse vera! Catnap, levamela di dosso! Oh, no! Di nuovo! Ho un altro dente! Lo prendo io! Indovinate dov'è? Gira e rigira! Indovinate! Fermo! Deve essere qui! Peccato, non c'è! Cara, è lì, vero? No, hai sbagliato! Non può essere! Cara, lasciami passare! Deve essere qui! Ah! Oh, un joystick! Forse qui? Aspetta! Questo è il suo zaino! Diamo un'occhiata! Forse ci sono degli indizi! Questo no! Wow! Da dove viene questo? Cos'altro c'è? Penso che questo sia il suo diario! Ops! Non è il suo! Ah! Corri! Basta, papillon! Ridacci nostra figlia! Perché urli così? Dove l'hai nascosta? Ragazzi, non ho commesso nessuna cattiveria questo mese! È il mio mese della gentilezza! Un po' di relax! Che bello! Allora chi l'ha rapita? Come avete potuto pensare che fossi stato io? Beh, sei un cattivo! Va bene, ti crediamo! Ladybug? Il tuo orecchino? Un altro dentino! Lo lascio alla fata! Sembra che stia dormendo! Questa è la nostra occasione! Silenzio! Bravo, cucciolo! Oh! Non addormentarti! Andiamo! Dobbiamo prendere quel dente! E chi è quella? Stai prendendo i nostri denti? Non osare! Sono nostri! Capito? Cosa hai fatto? I denti? Perché dovrei volere le tue monete? Sparisci! E tu cosa stai aspettando? Colpo! Wow! Super lontano! Prendilo! Oh! Dove l'ho messo? Ci sono circa 50 carati qui! Cosa? Un altro dente? Oh! Posso fare uno scambio con la fata! Ottimo! Battene! Abbiamo perso nostra figlia! Oh! Allora il caso è chiuso! Ti avevo detto di non disturbare la mia meditazione! Dove sei stato? Stiamo cercando nostra figlia! Agent, ci aiuti! Va bene! Che prove avete? Basta! Ecco! Prendi questo! Tutto qui? Ecco la sua cintura! Oh! Una ciambella! Deliziosa! Va bene! Esamineremo il tuo caso! Ho un sospetto su queste persone! Adesso ti prendo! Oh! Che commedia! Ehi! Giochiamo! Ehi! Non essere cattiva con me! Anche tu sei come un bambino! Per quanto ancora Dog Day! Trucco! Va bene! Vai! Dalle una lezione! Qualcuno ha richiesto una manicure? Che nervi! Oh! Non dirlo a me! Oh! Che cos'è? Wow! Quanti segni! Vediamo! Una specie di telecomando! Prendiamo i denti e buttiamola fuori! E dov'è adesso? Cosa fa questo bottone? Oh! Che bello! Ancora! Sembra che sia nei guai! Per favore no! Ciao ciao! No! Prendi! Cosa faccio adesso? Non puoi scappare! Non è finita! Fermo! Lo prenderò! Che bel giocattolo! Che ne dici? Cara? Penso che qualcuno mi stia chiamando! Tesoro, guarda! Seguiamo la freccia! Ok! Tornerò! Allora, dove adesso? Oh! Non ho paura di voi alieni! Vieni qui! Dove li hai presi? Miau! Strano! Troverò una soluzione! Chanoar, concentrati! Dove li hai presi? Laggiù! Oh! Dopotutto sono fortunati! Cos'altro può fare? Ti prego, per favore, smettila! Non ne posso più! Addio! Non la troveremo mai! Ecco, prendetela! Fermi lì! Ci mancava questa! Posso fare una foto con te? Sono un grande fan! Grazie! È catnap! Finalmente ce ne siamo sbarazzati! Beh, ciao! Basta! Vedo che siete inseparabili! Adesso lo siete ancora di più! Che divertente! Quando finirà tutto questo? Non ne posso più! Sono un po' stanca! Dobbiamo sbarazzarci di lei il prima possibile! Sei senza speranza! Sento che è qui da qualche parte! Dove mi sta portando? Oh, ci sono! Che cosa? Oh, non ci credo! Eccola! Sbarazzati di lei! Indietro! Oh, oh! Ridatemi mia figlia! Così va meglio! Cara, cosa ci fai qui? Oh, stavamo stanno giocando! Cara, penso di averla trovata! Guarda, nostra figlia! Tesoro, quella non è nostra figlia! Eccola! Vieni, piccola! Tu cura lei! Sono così felice di vederti! Oggi abbiamo fatto un bel bottino! Siamo ricchi! Quindi questi sono i tuoi genitori? Ladybug! Ladybug, cosa ci fa qui? Prendeteli! Oh, che male! Lascia stare! Hanno rubato i soldi! Oh, perdenti! Oddio! Ladybug, stai attenta! Ciao, ciao! Oh! Fuori di qui! Ladybug! E questo è tutto ciò che resta di lei! Mettila con le altre! Questa è la fine di Ladybug! No! Nessuno di questi è divertente! Dov'è? La mia Ladybug! Non ha nessun amico! Oh, non piangere, piccola! Cos'è successo? Forse posso aiutarti! Voglio essere amica di un vampiro! Non vado bene io! No! Oh, sia quello che vuoi, davvero! Oh, sei qui anche tu! Iniziamo con il trucco! Non penso che sia difficile! Bene, allora iniziamo la trasformazione! Ecco la mia Beauty Box! Tutto ciò di cui hai bisogno! E anche di più! Devo essere perfetta! Non deluderò la piccola! Levighiamo la pelle! Oh, da dove viene questo brufolo? Facile da sistemare! Ora lavoriamo sul pallore! Ehi, dai! Combattiamo! Aspetta! La cipria ti sta cadendo addosso! Apriti la bocca! Salute! Bel colpo! Ma per ora basta giocare! Non male! Ma togliamo la maschera! Oh, niente può aiutarmi! Ma aspetta! Ho un'idea! Speriamo che funzioni! Andiamo! Sono pronta! Vedremo! L'importante è non svegliarlo! Ci deve essere qualcosa in questi indizi! Wow! Questa è pericolosa! Che paura! Tienila un momento! Un cuscino! Stai attento! È tutto! Non può essere! E qui? Niente neanche qui! Mi aiuterai? Stai cercando questo? Lo scambierò con le chiavi! Davvero? Facciamolo! Prendilo! Evviva! Finalmente! L'allarme! Oh no! Atterra! Tutto tranne questo! Che rumore! Ora è tempo di mettersi al lavoro! Proviamo! Spero che aiuti! Non funziona! Come faccio a sbarazzarmene? Forse dovrei aggiungere più potenza! Per essere sicuri! Penso di aver esagerato! Bisogna riportare tutto come era! Oh! Ci è mancato poco! Bisogna scegliere l'impostazione giusta! Oh! Molto meglio! Perfetto! La pelle è perfetta! Ma questo monociglio deve sparire! Non posso apparire così! È ora di sbarazzarsene! Non c'è niente di adatto! E adesso? Aspetta! Ho un'idea! Il tuo ordine! Grazie! Facciamo prima una foto! Le prendo in prestito per un momento! Fantastico! Tanta fame! Oh beh! È ancora più buono quella forchetta! Semplicemente perfette! Sei pronta a scaldacera? Sarei di grande aiuto! Versiamo la cera! E ora la sciogliamo! Meraviglioso! Ora sopracciglia! Temo che dovrete separarvi! Oh! Molto meglio! Ciao piccola! Ciao! Cosa stai facendo? Mi trucco! Ridammelo! Mai! Oddio pennello! Oh! Ed ecco la cipria! Ora diventerò sicuramente un vampiro! Eccellente! Ora aggiungiamo l'ombretto! Il rosso starà benissimo con il mio costume! E il rossetto! Mi piace! Poi, i capelli! Non c'è tempo da perdere! Sì! Vediamo quali colori abbiamo qui! E questi sarebbero i colori da vampiro! Qualcosa di più sofisticato? Solo un secondo! Ho un'idea geniale! Buongiorno! È Ladybug! Oggi terrò io la lezione di chimica! Coca e Fanta? Mescoliamole! Wow! Cos'hanno i miei capelli? Oh, così non va! Forse adesso funzionerà! Uh! Chissà cos'era! Oh no! I miei capelli si sono trasformati in zucchero filato! Ma non è male! Si sta mangiando i capelli! Divertente! Lo spuntino è finito! È ora di tornare agli esperimenti! Questa è la mia ultima speranza! Dai! Oh! Ha funzionato! Wow! Come ha ottenuto quell'effetto! Qual è il prossimo step? Oh oh! Che cosa gli stai insegnando? Esci dalla mia classe! La cosa importante è che ce l'ho fatta! Oh! Questi vicini! Non lo passeranno liscia! Questa festa è fantastica! Ma perché fate rumore? Basta! No! Ne ho abbastanza! Silenzio! Buuuh! Il DJ è terribile! Mandatelo via! Lo userò saggiamente! Molto meglio! Finalmente un po' di relax! Oh! È così luminoso! Da dove viene tutta questa luce? Wow! Lo yo-yo di Ladybug! Cos'è? Mary, hai visto? Ehi! È mia! Wow! Cos'era? Wow! Fammi vedere! Oh oh! Crema solare? Potrei usarla! Oh! Beh, allora prendila! E allora? Adesso il sole non mi spaventa! Ah! Rilassamento totale! Cos'è successo? Questo è un incubo! Tutto tranne questo! Oh piccola! Ciao! Come stai Ladybug? Oh! Non chiedermelo! Barba nera! Ci sono i pirati qui! Oh! Devo liberarmi velocemente di questa barba! Andiamo! Dopotutto è meglio essere liberi! Sei proprio quello di cui ho bisogno! Tutto tranne la prigione! No! Ho bisogno del tuo aiuto! Non rovinerò i miei strumenti con la tua barba! Che mi dici adesso? Ta-da! Questa è tutta un'altra storia! Mettiamoci al lavoro! Tutti i cescugli devono essere puliti e in ordine! Eccellente! Mi hai salvata! Un'enorme grazie! E il pagamento? Pensavo fosse gratis! Non ho soldi! Ragazzi, ora sono uno di voi! Non posso fermarmi adesso! Cos'è? Potrebbe tornare utile! Ops! No! Sono occhi! Queste mi servono! Magari troverò il colore giusto! No? Noiosi! Da dove vi è? Che strano! Ehi! Sono Skittles! Aggiungo le rosse al barattolo con gli occhi! Perfetto! Basta mescolare bene! Spero che funzioni! History! Oh, ecco! Ora proviamo i nuovi occhi! Buoni! Ehi! Cos'è questo bagliore? Non riesco a vedere niente! Oh, vorrei non averlo visto! La mia manicure è semplicemente orribile! Meno male che è sulla lista! Ho bisogno di alcuni trucchetti, ovviamente! Ciao a tutti! Oggi vi mostrerò come realizzare la manicure perfetta! Per prima cosa, comprate il mio smalto! L'ho trovata! Ehi, Mary! Che c'è? Togli quella cosa! Non avvicinarti a me! Oh, prendi tutto, ma non avvicinarti! Oh, ecco tutto ciò di cui potrei aver bisogno! Grazie, Mary! Che bella giornata! Wow, c'è anche un distanziatore! Unghie finte! Le ho sempre desiderate! Adesso applichiamo lo smalto! Oh, sì! Il nero sarà perfetto per il mio look! Sì, ora è il momento di pensare all'outfit! Hmm, non può essere! Ehi tu, vieni al mio show! E ti mostrerò la vera magia! Meraviglie che non puoi nemmeno sognare! Ho bisogno di un volontario! Qualcuno? Magia! Motosega? Magia! Vi piace? Magia! Magia! Oh, perché non sono fortunata? Magia! Guardate! Cosa abbiamo qui? Ora è il momento dei miei trucchi! Facciamo sparire il mantello! Oh, e il cappello! E luce sia! Ehi, perché fa freddo? Il mio mantello! Perfetto! Ora al lavoro! Devo adattare il mantello alla giusta taglia! Bello! Wow, è perfetto! Ogni vampiro sogna un costume come questo! Manca poco! Sì, non sembra ancora un vampiro! Oh, ciao piccola! Stai cercando le zanne, vero? Dammi un minuto! Ecco alcuni candidati! Guarda! Chat Noir? Queste zanne andranno bene? No! Cosa sta succedendo qui? Troppo piccole! Allora è il prossimo candidato! Ho lasciato la dentiera a casa! Forse le stai nascondendo? Sul serio? Disgustoso! La nonna senza denti non è adatta! Fuori dai piedi! Sei rimasta solo tu! Non guardarmi così! Zanne eccellenti! Sono perfette! Ok, apri la bocca! Che la battaglia abbia inizio! Evitiamo? Oh no, dobbiamo! L'hai voluta tu! Un paletto di legno? Non hai paura! È fatto con materiali riciclati! Allora preparati! Oh, che bello! Oh, che relax! Lasciati andare! Non toccarmi! Questo non ha aiutato! È ora del piano B! Adesso sei mio! No! Grazie, è proprio quello di cui avevo bisogno! Mmm, semplicemente adorabili! Cos'è rimasto? Gioielli? Vado a prenderli! Spero che siano sufficienti! Dammi qualche spicciolo per il cibo! Che carino! Oh, questo è per te! Prendi! Cosa? Mi stai offrendo un dollaro? Cosa c'è che non va? Cosa ci compro? Non ho bisogno della tua carità! Tienitelo tu! Mi stai prendendo in giro? Ops, sono in pausa! Dove ho messo il pranzo? C'è spazzatura ovunque! Incredibile! È un milionario! Ah, ecco il mio tesoro! Ah ah! Peccata! Non ti perdonerò mai, Ladybug! A quella festa tutti mi hanno odiato! Anche se sono il miglior DJ in circolazione! E ora avrò la mia vendetta! Boh, la mia Akuma! Buona fortuna, Ladybug! Oh, il mio nuovo set è straordinario! Spacca! Vivi in una discarica! Ehi, cos'è? Oh, ti prenderà tutto! Quando è troppo, è troppo! Finalmente il mio look è completo! Adesso sono un vampiro! Ma le scarpe... È tutto perduto! Ho un regalo per te! Wow, grazie mille! Sono perfette! Oh, e sono della mia misura! Sei la migliore! Aspetta, devo controllare una cosa! Allora, sono un vampiro adesso! Sì! Piccola! Oh, è così carina quando dorme! Proprio come un piccolo angelo! Che giornata impegnativa! Deve essere stanca! Ti porto a letto! Eccoci qui! Sogni d'oro, mia principessa! Ed ecco il dessert! Oh, muffin alla banana! Cosa? Vedrai! Si scopre che i giocattoli sotto la coperta possono salvare vite umane! Questo è un antipasto per te! Addio, vampiro! Come ti trovi nel tuo nuovo appartamento? Il vampiro è più preoccupato che i suoi capelli si siano incasinati durante la caduta! E questo deve essere il padrone di casa! Non è bello come Ross? Anche Pikachu è un membro del club degli sgranocchiatori notturni! Che scontro! Un vampiro! È un terremoto! Ehi, mi sentite? Ai! Tenetevi forte! Ai! Ciao, bello! Sta parlando con me! Cosa? Di nuovo? Venite fuori! Dobbiamo parlare! Oh, vampiro! Che carino! Usciamo insieme! Assolutamente no! Pikachu, abbiamo compagnia! Riesci a immaginarlo! Volevano mangiarmi! Quei tuoi pallidi! Ci hai portato un dolcetto? Grazie! Mangiate questo! Capito? Togliti di mezzo! State bene! Sei un mostro! Addio! Povera ragazza, il suo cuore è stato rubato! Ma non il suo talento da detective! La ricerca del suo amato ha portato Pikachu in una fabbrica abbandonata! Dovresti valutare le condizioni in cui vive il tuo amato! Pikachu, stai attenta! Sei in pericolo! La preda è più veloce del predatore! Pikachu non lascerà che il ketchup vada sprecato! Nemmeno se la bottiglia è rotta! Hai un tovaglialo? Cosa? Anche lei ha una succhia sangue! Ciao! Piacere di conoscerti! Pikachu? Devo presentarti a tutti! Vampiro, ti ho trovato! Per te sono il conte vampiro! Stai immaginando le cose? Vedo che ha consentito a diventare marito e moglie! Potete baciarvi! Pikachu, che ne dici di vivere da single? Così toccante! C'è qualcuno che è contrario a questo matrimonio? Cosa? Era uno scherzo! Sei ineguagliabile, mio maestro! I vampiri possono sposare solo vampiri! Tu, scoiattolo elettrico, saluta la tua carta! Che cattivo! Pikachu si fidava di te! Una Pokéball! Veloce! Adesso ci penserei due volte prima di presentarti qui! Possiamo mangiare? Cucino io! La vampira Lily è l'unica a cui importa di Pikachu! È disposta a correre dei rischi per aiutare il Pokémon! Che è lasciata all'altare! L'argomento della lezione di oggi è che i vampiri non sono Pokémon! Stai cercando di rovinarmi per sempre! Ecco ciò di cui ho bisogno! Troom Hood! Non piangere e ascolta! Devi cambiare affinché funzioni! Solo così potrete stare insieme! Sei pronta per trasformarti? Certo! Devo diventare un vampiro! Diventerai una regina dei vampiri! È un po' inquietante! Sarà meglio nella vita reale! È tutto per te! Oh grazie! Perché? Ancora? Cominciamo dalle sopracciglia! Ti spenno come un pollo! Non mi arrendo! Vedremo! Non parlo! Fa male! Smettila subito! Oh! Stai bene! Ehi! Cos'è successo alle mie sopracciglia? Non sono più uno scoiattolo! Sono una tigre! Super cool! E tu? I vampiri non si riflettono nello specchio! Pica! È stato un incidente! D'ora in poi sarà diverso! Come li tolgo? Penso che questo mi aiuterà! Proviamolo! Wow! Che bello! Che bello! Vediamo! Oh! Non è servito a niente! Forse il gadget non ha abbastanza potenza! Posso aggiungerne dell'altra! Fica! Cosa fai? Sono bloccata! Oh! Che ne dici? Ora sono pallida come un vampiro! Aspetta! Dove stai andando? Dai! La nonna vuole vincere la fiera quest'anno! Oh! Qualcuno ha voglia di farina invece che di sangue? Eccomi! Incipriamoci un po'! Pikachu volevi essere pallida? Allora chiudi gli occhi! Ce l'ho nel naso! E... Pica di nuovo! Mi dispiace! Oh! Grazie amica! Smettila! Non siamo ancora perfette! Sei stata dal parrucchiere ultimamente? Anche io posso farlo! Oh! Ah sì? Allora ti attaccheremo insieme! Oh! Quanto è infantile! Mi state annoiando! È impossibile spaventarla! Vai via di qui! Ok! Continuiamo a trasformarci! Se non ti sbrighi, ti porteranno via il vampiro! Non ci posso credere! No! Vampiro! Pikachu! Qualcuno si è innervosito? Portalo via! I miei capelli! Cos'è successo? C'è qualcosa che non va! Secondo me sono troppo corti! Facile rimediare! Gel di melma di palude! Ma i vampiri non hanno dei trotti normali! Lascia che si impregnino! Che spazzola orribile! Con dei capelli così verrai sicuramente considerata un vampiro! Sono lunghissimi! Grazie Lily! Sono irriconoscibile! Se sei un vampiro devo aggiungere il rosso! Sei davvero cool! Allora vado! Non ancora! E le zanne? Saprai quando sarei pronta! Non fare rumore! I vampiri hanno un sonno molto delicato! Stai attenta! Oh! Guarda! Lo sogno da sempre! Smettila di scherzare! Siamo qui per fare una cosa! Ma shh! Non vuoi che si svegli! Forse dovrei andare! Aspetta! Non abbiamo ancora finito! Non ce ne andremo senza un paio di zanne per te! Era da tanto che volevo farlo! Ehi! Perché non prendiamo queste? Ce l'abbiamo fatta! Andiamo! Andiamocene di qui! Molto interessante! Non è forse il Pokémon che tutti stanno cercando? Mio signore! Svegliati! Ho novità! Mio signore! Aspetta un attimo! È lei! Pikachu! È uno scherzo? Sei stato tu? No mio signore! La sto cercando io stesso! Dov'è il mio sangue? Proprio quello che ci vuole dopo un pisolino! Cosa vuoi? Signore, credo di aver visto un evaso! Un evaso? L'avevo in un... Come si chiama? Signore, starà parlando della Pokéball! Ehi, Pikachu! È vuota! Non esiste! Dov'è? Non lo so, mio signore! Così non va! Tu! Vola con me! Più per un pelo! Per favore, non muoverti! La mamma sarà orgogliosa di me! Sorridi! Manca poco! Vampirella, cosa hai fatto? Aspetta, non ho finito! Ora sistemo tutto! Oh no! Non sarò poi così male! Lo farò da sola! Beh? Quindi non sei uno scoiattolo, sei un cattoro! Ho finito! Guarda! Beh! Ha le foglie tra i denti! Cheese! Ok, non mi servirà più! Guarda, siete quasi gemelle! Penso che possiamo completare il tuo look! Sono pronta a tutto! Allora possiamo prendere una scorciatoia! Sei morti! Ti metto la museruola! Uh oh! Ok, troveremo un altro modo! Così va meglio! So cosa fare adesso! È tempo di vestirsi! Trompud! Guarda, sono un vampiro! Va meglio? Vabbè, cinque su dieci! Va bene! Trompud! Guarda che pungiglione! Ho delle zanne sulle mani! È anche peggio! Non sei divertente! Ok, l'ultimo! Trompud! Miau! Oh, non sei ancora un vampiro! I gatti mordono! Beh, allora non lo so! Lo sapevo! Prova questi e smettila di giocare! Wow, fantastico! Grazie, vampirella! Grazie! Cosa stai facendo? Ora fidati di me! È ora di finire la trasformazione! Oh, lo sento! Oh sì, è una bella sensazione! È ora di fare uno spuntino! Au! Au! Vampirella! Chi è quella con te? Ho portato la nuova ragazza! Di nuovo? Vieni dentro! Dove sei stata? Hai trovato il Pokémon? E chi è questa? Ciao! Salve, signora! Lei sarà mia! Signore! È Pikachu! Vattene! Non vedi che stiamo parlando? È molto dolce, ma... È lei, mio signore! Dimentica quello stupido scoiattolo elettrico! Probabilmente si è seduta sulla sedia ed è diventata elettrica! È quelle orecchie! Sono elettriche anche loro! È quegli occhi ingenui! No! È quel ketchup! Penso che stia per scoppiare! Sei così divertente! Oh no! Secondo me... È lei! Questa è per avermi chiamata stupida! Per le orecchie! E per il ketchup! Sono felice di essere tornata con te! Pikachu ha capito che non deve cambiare per chi non la ama! È meglio stare con chi ti accetta per quello che sei! Dove hai preso quelle zanne? Cosa? Ignorale! È passata l'ora di andare al letto! Che rimbocco le coperte! Il passato sembra non voler lasciare andare Pikachu! I vampiri sono tornati per lei! Ma questa volta non ha paura di loro! Wow! Sono davvero arrabbiati! Ragazzi! Per favore! Se qualcuno può sentirmi! Salvatemi! Ash! Smettila di parlare per un secondo! Faresti meglio ad ascoltare Pichu! Forse questo ti calmerà! Finalmente! Guarda! Oggi il cattivo rossa è evaso! Non di nuovo! Oh oh! Ash! Sembra che tu abbia compagnia! Non ti aspettavi che tornassi, vero? Ash non era pronto per questa svolta! Pichu, penso che stia venendo per te! Oh oh! Non hai un posto dove scappare! Arrenditi! Ed entra nella Pokéball! Oh no! Ross ha già messo gli occhi sulla collezione di Ash! Non è in mente niente di buono! Chissà perché le vuole! Ash, sei sveglio! Sbrigati e salva il Pokémon! Non hai molto tempo! Penso che questo giorno sia arrivato! Se non lo apri ora sarà troppo tardi! Mi chiedo cosa sia! Una specie di anello? È ora di andarsene di qui! Ma la curiosità è più forte dell'istinto di sopravvivenza! Ash non sa bene cosa fare! Oh! Cos'è? Un portale? Ash! Come hai fatto? Ehi, è Sonic! Ecco chi apparteneva all'anello! Immagino che Rich non si sia ancora svegliato! Ehi, chi sei? E come sei arrivato qui? Sei fuori di testa? Ero tranquillo a casa! Cosa sta succedendo qui? Se questo è un sogno, sparirai! Mi hai bagnato! Faresti meglio ad aiutarmi a riprendermi i miei Pokémon! Ross è ancora qui? Sonic ha catturato cattivi peggiori! Ma Ross è spaventato! Era solo una distrazione! Ti sono mancato? Dai, Sonic! Fagliela vedere! Non è una carie! Prendi un'arma più grande! Questa è tutta un'altra storia! Ma la squadra di Ross non ha intenzione di arrendersi! Non credo che Rapidash sia dell'umore giusto per giocare con gli anelli! Ash sta avendo gli incubi! Oh no! Non è un sogno! Aiuto! La guardiana Rapidash non tollererà il rumore nella sua prigione! Oh no! È di nuovo lei! Abbiamo un disperato bisogno di rinforzi qui! Un'ultima Pokéball! Sbrigati Charmy! Siamo in grave pericolo! Devi tirarmi fuori di qui! Eh, non è così che Charmander aveva pianificato di concludere il suo picnic! Charmy non ha usato la fiamma! Ma allora chi l'ha fatto? Sembra che questa prigione sia troppo piccola per due Pokémon di fuoco! Rimarranno solo i più forti! Charmander carica il suo attacco! Rapidash si aspettava di vedere qualcosa di più impressionante! Anche lei è brava nella tecnica del fuoco! Sembra che i loro poteri siano uguali! Ash, questi non sono teppisti! Metti via la mazza! Parai esplodere tutto! L'estintore dovrebbe raffreddare Rapidash! Ora il team Ash è in vantaggio! Oh oh! Hanno fatto arrabbiare Rapidash! Purtroppo Charmy dovrà arrendersi e tornare nella Pokéball! La fiamma dell'ultima speranza inizia a spegnersi! È ciò che mi mancava per completare la collezione! Grazie Ash! Ross venderà tutti i Pokémon! E per spezzare completamente lo spirito dell'allenatore, Ross scatena le nuove guardie! Non riuscirà a superare l'armadillo Abra e l'ape Beedrill! E tenetelo d'occhio! Ci pensa Abra! Ash ora è completamente alla sua mercè! Sonic è stato più fortunato! Anche se non è ancora tornato a casa! Ehi, quel ragazzo sullo schermo sembra familiare! Ho catturato i Pokémon più rari! E sono disposto a darteli a un prezzo ragionevole! Non perdere l'occasione! Ora Sonic sa come trovare il cattivo! Ma non possiamo rovinare tutto come l'ultima volta! Sonic dovrà fare un allenamento serio! Potrebbe dover affrontare tutti i Pokémon contemporaneamente! Deve salvare Ash e i Pokémon! Penso che sia pronto! Dobbiamo solo assicurarci che sia abbastanza veloce! Oh! Il tachimetro è fuori scala! Che cosa? Questo è il vecchio record! Così va meglio! Sì! Ora Sonic è decisamente pronto! Nessuno lo fermerà! L'asse è aperta! Il primo è Meow! Tenero fuori e predatore nel cuore! Eh? È una mostra di gatti e un evento serio! Sembra che Ross stia perdendo il suo pubblico! Gli investitori sono delusi! Ross non ha altro da fare che mostrare i Pokémon in azione! Meow non è entusiasta di essere venduta come un oggetto! Oh! Vuoi giocare al gatto col topo? Posso farlo! Meow ha capito che è meglio vivere con i ricchi che con questo pazzoide! Guarda che carina! Come puoi non prenderla? Gli azionisti sono confusi! Avrebbe dovuto iniziare l'asta così! Ora tutti vogliono prendere i Pokémon! Venduta! Ora tocca a Snorlax a sorvegliare Ash! Ash non sarà qui per molto! Deve scogitare subito un piano di fuga! Che deliziosa ciambella! Snorlax non può certo resistere a qualcosa di dolce! Ma non ha funzionato! Ci risiamo! Snorlax non perde mai l'occasione per sgranocchiare! Posso averne una? Ash si offre di scambiare l'intera scatola con un mazzo di chiavi! Una scatola intera! Ross si lamenterà ma sono così buone! L'amore per i dolci ha preso il sopravvento! Come resistere a un dolce così? Ash è riuscito a liberarsi! Non resta che riprendere i Pokémon! Nessun lucchetto può fermarlo adesso! Forse è inceppato! No, è Snorlax che ha mangiato troppo! Sembra non avere la forza di digerire un'intera scatola! Non essere triste, Ash! La vita è come una scatola di ciambelle! Non sai mai quando ne prenderai una già masticata! Ash non trova pace mentre i suoi Pokémon sono in pericolo! Credo ci sia stata una recente ristrutturazione qui! Che sconsideratezza abbandonare gli attrezzi! Potresti provare a uscire dal condotto! Con un paio di colpi di martello la griglia inizia a oscillare! Ancora un po' e Ash respirerà di nuovo aria di libertà! Sbrigati Ash! La guardia potrebbe arrivare da un momento all'altro! Ora Ash capisce come si sentono i Pokémon nella Pokéball! Mi chiedo cosa ci sia in questa stanza! È Jigglypuff! Il suo concerto è in pieno svolgimento! No, Ash! Sembra un vicolo cieco! Meglio rientrare prima che sia troppo tardi! Era così vicino al fallimento! Dobbiamo nascondere tutte le prove! Ash, sbrigati! Non puoi essere beccato!